ciao a tutti oggi prepareremo il pollo al limone il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa gli ingredienti sono fettine di petti di pollo sale pepe origano semola limoni tagliate a fette acqua olio e patate tagliate a fette diamo il via la ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale versando all'interno del boccale l'acqua un cucchiaino di sale chiudiamo con il coperchio